e andiamo partenza regolare per questo junior e smaschi in finale 5.000 punti anche per loro al dodicesimo giro sentiremo la campana e da quel momento daremo punti e andiamo campana meno 12 da adesso diamo punti ogni giro due verranno premiati il primo e il secondo tranne nell'ultimo giro includeremo primo, secondo e terzo posiziona i punti e allora andiamo per questi primi punti del passaggio a meno 11 45, 210 passaggio al meno 10 passaggio al meno 10 i punti vanno a 2, 4, 9 e 1, 6, 1 passaggio al meno 9 2, 4, 9 1, 6, 1 e andiamo passaggio al meno 8 passaggio al meno 8 2, 4, 9 1, 6, 1 passaggio a meno 9 sette cento venticinque e undici passaggio almeno sei cento venticinque e cento undici passaggio almeno cinque 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 e cinquantuno a loro vanno i punti del passaggio almeno cinque passaggio almeno quattro abbiamo cinque 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 e cinquantuno passaggio almeno quattro passaggio almeno tre cinque 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 e cinque cinquantuno la signora Anna Marelli del Cantù dai giudici per favore signora Anna Marelli passaggio almeno due passaggio meno due cinque 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 e cinquantuno ma non devi farla dare anche tu? e andiamo andiamo a vedere questo ultimo passaggio almeno uno campana ultimo giro cinquantuno e cinque 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 manca l'ultimo giro campana forza ragazzi ultimi trenta metri di questa bellissima finale chiudono numero cinque 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 e cinquantuno bravissimi ragazzi bellissima gara bene adesso galoppiamo verso la nuova finale si chiama finale signores femmine sempre cinque mila punti adesso stiamo concludendo la gara e poi annuncerò i presenti per la batteria scusate per la finale grazie